Eeeh, Uri! Come si sente il festeggiato? Benissimo, grazie a tutti per dare la compagnia, oggi per il mio lavoro e il mio lavoro. Riffiglia l'annivatore. Ciao, ciao! Una canzone augurosa, augurosa. E' un giudigno aire, ragazzi. E' un giudigno aire, ragazzi. E' un giudigno aire. alla gita, 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 e ci dobbiamo alzare, ci dobbiamo alzare, in piedi, in piedi, te la fai totò, io sto riprendendo. Grazie, grazie. Grazie. Grazie.